... Sentite l'Aida, la sentite in sottofondo, le squadre quindi entrano in campo in una gara quella di oggi che è anche dedicata ad Action Aid mentre tra poco verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Ferdinando Pasotti Anche il pubblico di Parma ricorda Ferdinando Pasotti, nonno del presidente, Ghirardi E' quasi tutto pronto allora, fuori giallo-blu tifosi del Parma che ci seguite come sempre sulle nostre frequenze E' tutto pronto per partire, il toccato forse duro da Zapata Cassano che inventa un gran pallone per Biabini Cerca di accelerare, prende il tempo a costa, Biabini, palla dentro, secondo pallo, arriva la palla a conclusione Parolo, parolo, gol, 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 parolo, ancora lui Quarto gol, avevamo detto, aperto, quarto gol, con la maglia del Parma Biabini si investe come un tappo di champagne a Capodanno Biabini da lì può metterla dentro, arriva ancora Parolo, secondo pallo, c'è Cassano, 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 gol E' ancora il samba di Antonio Cassano, dal dischetto del rigore, 36 con avversario e mette il piantone nell'angolo, 2-0 E vediamo chi esce, credo Birsa per noi Grandi applausi per Cacà, ovviamente ci sono anche molti tifosi del Milan oggi Cacà che rimette piede dal Tardini, esce Balotelli Porto può anche crossare, Cassano contro Bate, se la porta sul mancino, Cassano lo porta a scuola Gampolla dentro, e la parata clamorosa attraverso, incredibile di Garganta Deve farci salire, perdiamo palla, Matri, 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 gol Palla persa a mare dal Meda al Parma e Matri ci punisce Nuovamente un troppo puniti su una palla nostra, incredibile Go del Milan, 2-1, Matri si sblocca, 2-1 al sediceo Matri dentro, posizione regolare, Cacà Mirante Mirante gli chiude lo specchio e gli dice di no Ma è chiaro che il Milan adesso ci crede No, secondo palo, attraverso del Milan Mirante deve farla fuori, go del Milan Silvestri, 2-2, incredibile Incredibile Il calcio è un po' veramente assurdo In due minuti Silvestri C'è Gabriel in maniera quantomeno irruente Ai danni di Cassano Cross della destra di Cassani Gabriel è uscito prendendo un po' tutto Poco, poco, Lucarelli, perdiamo palla Cacà, 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 solo Grande Mirante Grande Mirante Grandissimo Non si è seduto ma è riuscito con un Spento nella ripresa Buco Gabriel esce A valanga ma in maniera efficace su Rosi Altra occasione per il par Segna Parolo divento matto, ve lo dico Parolo vuole calciarla Grandestro Goool 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 Parolo 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 Dai 13 metri Divento matto Parolo 3-2 C'è una giustizia nel calcio Parolo gol L'avevamo detto Divento matto